Eccoci, noi siamo qui in compagnia del mio collaboratore, l'ingegner Tamantini, che ci offre una dimostrazione dei robot che sviluppiamo in questo laboratorio. È un laboratorio, come dice il nome stesso, di robotica avanzata, quindi sviluppiamo tecnologie robotiche e meccatroniche che hanno la grande ambizione di contribuire a migliorare la salute dell'uomo e quindi in particolare cerchiamo di potenziare o recuperare delle funzionalità limitate o perse delle persone affiancandole nello svolgimento di attività di vita quotidiana o anche lavorativa. Quindi progettiamo e sviluppiamo manipolatori robotici come quello che potete vedere qui piuttosto che sistemi di assistenza personale tipo robot di servizio come appunto il robottino bianco qui a fianco a me alla mia sinistra e sviluppiamo esoscheletri e protesi bioniche. Essendo un laboratorio di robotica che si occupa dell'assistenza alla persona lavorano qui team multidisciplinari che vanno dalla figura dell'ingegnere biomedico, bioingegnere che è un po' il cuore delle nostre figure professionali che ha questa grande competenza di conoscere e comprendere la componente umana, quindi l'uomo e insieme anche avere competenze tecniche molto sviluppate ma naturalmente i robot hanno componenti meccaniche, meccatroniche, informatiche quindi abbiamo bisogno di figure professionali che afferiscono a vari ambiti dell'ingegneria nonché di competenze provenienti dalla biologia, dalla medicina e su questo ci viene sicuramente in aiuto la vicinanza con il nostro policlinico universitario. Allora, quello che ti volevo chiedere prima Loredana, intanto grazie, la cosa bella dei maker, quella che stiamo scoprendo di Letta ed io, è che oltre a tanta testa c'è tanto cuore e quindi ci sono anche delle storie molto belle, anche commoventi a volte da raccontare grazie a voi è successa una cosa molto speciale in un momento difficile come questo al Covid Center, dove sappiamo la fatica, il lavoro che tante persone stanno facendo in un ambiente così difficile e delicato voi siete riusciti a portare un vostro robot all'interno che sostituisce a volte anche gli umani in alcune operazioni che sono delicati, importanti in un ambiente così ci vuoi raccontare questa storia? Sì, il protagonista di questa avventura nel nostro Covid Center è il Tiago questo robot bianco qui a fianco a me è un robot, nasce come robot collaborativo, come dice il nome stesso quindi viene progettato per cercare di collaborare con l'uomo nello svolgimento di attività lavorative o anche domestiche e nel caso specifico noi abbiamo costruito intorno al Tiago un sistema di assistenza sanitaria, quindi un assistente sanitario che potesse essere d'aiuto agli operatori sanitari nel Covid Center del campus biomedico, soprattutto nelle attività di logistica e sanificazione degli ambienti quindi il sistema Tiago che vediamo qui è dotato di navigazione autonoma per cui ha una base mobile sensorizzata che gli consente di muoversi autonomamente nei ambienti, in ambienti naturalmente che ha registrato prima e che quindi poi ricorda e riesce a navigare in maniera autonoma sfruttando anche la capacità di individuare ostacoli sia statici che dinamici e quindi aggirarli, evitarli e raggiungere la posizione di arrivo inoltre ha anche un sistema di telecamere e questo gli consente di svolgere compiti che coordinano visione e movimento e anche un braccio simile al braccio umano con la stessa mobilità del braccio umano ed una pinza per afferrare oggetti tutto ciò naturalmente messo in un contesto come quello del Covid Center in cui appunto il lavoro era tanto ma anche il rischio di contagio ha consentito di alleggerire l'attività degli operatori sanitari affiancandoli nel trasporto di materiali di tipo sanitario o anche emoderivati e anche questo durante i turni diurni l'abbiamo sfruttato anche durante la notte per effettuare la sanificazione degli ambienti quindi dotato di alcune lampade ad ultravioletto montate qui sulla sua base dietro la testa il sistema era in grado di raggiungere una destinazione che era precedentemente selezionata dall'operatore andare nella sala nell'ambiente da sanificare e restare lì dentro girando nella sala in punti specifici per sanificare l'ambiente e ritornare poi autonomamente nel suo punto di partenza cioè alla sua base di ricarica il sistema offre un serie di potenzialità che noi stiamo sfruttando in realtà anche in altro modo stiamo ragionando in ambito di progettualità sia nazionali che europee su un vero e proprio operatore sanitario che possa sia replicare le funzionalità di un fisioterapista nella somministrazione di quindi nella riabilitazione fisica motoria coordinando visione e movimento nell'assistenza al paziente durante il trattamento riabilitativo ma anche possa svolgere anche un ruolo di infermiere quindi di affiancamento agli infermieri soprattutto nelle corsie ospedaliere per il monitoraggio dei pazienti, la movimentazione dei pazienti, l'assistenza alla deambulazione Professoressa grazie, ci ha illustrato quindi Tiago sensibilia che è stata realizzata in collaborazione con l'INEL insomma tutto quanto è robotica a servizio della persona che è un settore importantissimo e che ci aiuterà molto ci sta già aiutando, questo è il bello della Maker Faire che uno dice tempo e futuro, sì no, è già qui, è già qui, grazie a Dio Grazie a tutti